Quali sono le priorità dei prossimi 18 mesi di governo cittadino? Noi naturalmente abbiamo le partite dell'urbanistica che significa concretizzare una serie ancora aperte di occasioni di trasformazioni urbane che ci sono su Pescara. Per quanto mi riguarda poi un tema centrale su cui abbiamo lavorato a lungo perché sono questioni complesse è quello della gestione unitaria dei servizi sull'area vasta perché al netto della grande Pescara prossima avventura noi abbiamo l'esigenza di rendere servizi pubblici che siano i più efficaci possibili in capo alla cittadinanza e che naturalmente tengano conto anche dell'efficienza e questo si fa facendo massa critica unendo le forze di Pescara e delle città dell'area metropolitana vasta e in questa direzione vogliamo continuare a muoverci. Alessandrini è un sindaco fantoccio che è a disposizione dei partiti, che fa soltanto quello che gli dicono i partiti. La vicenda Teodoro è emblematica. Per qualche mese i due consiglieri della lista Teodoro hanno fatto un ostruzionismo becero per ottenere un risultato che era quello dell'assessorato e Alessandrini ha ceduto non perché fosse convinto di inserire Teodoro all'interno della giunta perché come sappiamo qualche mese prima aveva messo fuori la figlia introducendo altri soggetti che dovevano portare più dignità e più forza all'amministrazione invece questi soggetti hanno fallito totalmente. Adesso c'è il ricambio con Gianni Teodoro ma credo che questa amministrazione è avviata mestamente verso la fine e oramai siamo in discesa un anno e mezzo di agonia. Cambiano le facce, cambiano i nomi ma rimane tutto invariato quindi siamo purtroppo di fronte all'ennesimo rimpasto che però non ha aggiunto nulla alla politica locale se non le solite facce che tornano a sedersi ai soliti posti. Dovrebbe esserci qualcosa di diverso, si dovrebbe parlare di saper fare le cose, si dovrebbe parlare di meritocrazia, di preparazione, di professionalità e invece si fanno semplicemente i conti con le liste civiche, con le loro richieste riguardo gli equilibri per mantenere le solite persone al potere.